Terza corsa premio Waymaker, un milio per i quattro anni affidati ai gentlemen, ne sono in nove al via con l'uno Slesia De Greppi, il due Saten Laser, il tre Satirello Pink, il quattro Spencer Brienne, il cinque Simpli Road, il sei Sabina Mail, il sette Sector, questi in prima fila, seconda fila per Spirit Alter con il numero otto e Serena Riz con il numero nove. L'errore prima del via di Sector, il favorito, galoppa a lungo e allora emerge Spencer Brienne attaccato da Simpli Road che sopravanza l'avversario, cerca di passare, reagisce all'interno Spencer Brienne a contatto c'è Saten Laser, con Spencer Brienne che si getta di galoppo sotto l'attacco di Simpli Road che cerca di scendere la corda davanti a Saten Laser, vi riesce, Simpli Road leader su Saten Laser, poi dalla terza posizione sposta subito Satirello Pink, poi però torna in corda davanti a Slesia De Greppi, ancora Spirit Alter in risalita esterna che lascia in coda Sabina Mail, insiste a largo Spirit Alter, cerca di risalire il gruppo, mentre per il battistrada ci sono 600 metri in 45.4. Simpli Road leader su Saten Laser che è raggiunto ora da Spirit Alter, poi ancora Satirello Pink, Slesia De Greppi e Sabina Mail, questi superstiti dopo metà gara sul piede dell'1.16.5 per Simpli Road che si mantiene in vantaggio nei confronti Saten Laser, all'esterno Spirit Alter, quindi Satirello Pink, sono rimasti più indietro Slesia De Greppi e Sabina Mail. Il chilometro di Simpli Road è in 1.16.3 per difendere ancora bene la posizione da Spirit Alter che però insiste all'esterno, sopravanza Saten Laser e va ora all'attacco della battistrada, quando siamo al completamento dei primi 1200 metri in 1.31.3 con Simpli Road attaccata da Spirit Alter, Saten Laser a contatto, poi Satirello Pink che ha spostato, quindi Sabina Mail che ha superato la fallosa Slesia De Greppi, Simpli Road ha la corda che cerca ancora di difendersi da Spirit Alter, all'esterno prova l'errore di Spirit Alter, si unisce alla lotta, Satirello Pink all'esterno, lungo la corda invece cerca spazio e ora ce l'ha Saten Laser, Saten Laser può andare su Simpli Road, rimonta l'avversaria, passa Saten Laser e va a concludere, vincitrice nei confronti di Simpli Road che è ancora seconda, mentre per il terzo c'è lotta fra Satirello Pink all'esterno e Sabina Mail lungo la corda, dopo l'errore di Spirit Alter, vittoria di Saten Laser, Gianni Palladino numero 2, al primo posto 228 sul mio cronometro. Grazie per la visione!